ciao ciao a tutti e benvenuti su archidei come vi avevo promesso nel video precedente andrò ad approfondire uno dei mini tutorial che avevo pubblicato su tik tok per questo motivo come vedete l'orientamento del video doveva essere verticale ma l'ho girato in orizzontale perché penso che rimanga comunque comprensibile e sia visualizzabile in modo migliore ma il motivo per cui è stato girato in verticale è perché la priorità era farlo per tik tok per una collaborazione con bibi craft infatti il materiale che vedete viene dal sito bibi craft ho scelto per questo tutorial un filo in colorazione bronzo di tipo non tarnish in rame colorato e di spessore 0 8 e 04 sempre su bibi craft ho scelto anche i cabochon a forma di navette che mi piacciono veramente moltissimo questi sono in agata nella colorazione turchese li trovate anche in altri colori e sono proprio belli avrei voluto prenderli di tutti i colori per quanto riguarda il filo è molto molto morbido per questo vi dicevo anche nel video precedente che avrei preferito prendere uno spessore maggiore dello 0 8 perché così sarebbe rimasto un pochino più rigido comunque sono riuscito a fare l'incastonatura anche con questo filo qui per iniziare la lavorazione dovete tagliare cinque segmenti di filo di lunghezza 30 centimetri io mi tengo sempre molto abbondante perché alla fine faccio dei riccioli decorativi con il filo e poi tagliate un metro e venti di filo da 04 che è il filo da tessitura fate 7 8 avvolgimenti con il filo da 04 al di sopra dei cinque fili da 0 8 e schiacciatelo con le pinze a becchi piatti e dovete fare gli avvolgimenti con il centro del filo da 04 sul centro dei fili da 0 8 all'incirca non è importante prendere la misura esatta separate quindi i fili da 0 8 lasciatene due da un lato due al centro e uno dall'altro lato e iniziate a fare una serie di avvolgimenti con il filo da 04 sui due fili centrali da 0 8 continuate a fare questi avvolgimenti per una lunghezza che sia pari a quella del lato della navette quindi girate la lavorazione e fate la stessa cosa in modo simmetrico dall'altro lato vi ricordo che per imparare di più sulla tecnica wire wrapping partendo proprio dalle basi per incastonare sia pietre che magari i vostri componenti in resina o in pasta polimerica c'è il mio corso online gioielli wire wrapping e trovate tutte le informazioni nell'info box del video quando avrete completato la lavorazione degli avvolgimenti su tutti e due lati prendete il centro della lavorazione e utilizzate le pinze a punta piatta per piegarlo proprio a punta perché stiamo andando a incastonare una navette e quindi l'incastonatura si deve appoggiare bene alla navette che nella parte bassa ha la punta e se avessimo incastonato una goccia o un ovale questa piegatura non sarebbe stata necessaria posizionate quindi la navette tra i fili con gli avvolgimenti e vedete quanto manca per completare gli avvolgimenti per poter arrivare alla punta superiore della navette nel mio caso mancava ancora qualche giro per meno di un centimetro quando sarete arrivati alla lunghezza necessaria andate a piegare le due coppie di fili da 0,8 superiori e legateli insieme con uno dei due fili da 0,4 che fuoriescono dalle lavorazioni laterali torniamo quindi nella parte bassa della lavorazione e prendiamo un'altra delle coppie di fili da 0,8 su cui non erano stati fatti gli avvolgimenti iniziamo a creare delle e dei loop dei giri con questi due fili questa sarà una decorazione laterale che andrà da un lato del cabosson e bloccherà il cabosson facendo contemporaneamente appunto la funzione della decorazione vera e propria io ho fatto tre moduli della decorazione poi con la parte di filo che avanzava sono andata a fare dei giri molto stretti sulla struttura laterale e ho tagliato il filo subito dopo i due giri che lo fissavano sulla struttura laterale stessa cosa anche per il secondo filo poi dal lato frontale avevo da una parte due fili e dall'altra parte un solo filo perché se vi ricordate in tutto i fili sono cinque quindi prendo il filo disparo lo faccio passare diagonalmente all'interno della struttura e lo vado a fissare in alto avvolgendolo per due o tre volte intorno agli altri fili da 08 quello che vedete adesso è quello che sarà il sostegno sul retro della mia navette in modo analogo poi andrò a fare anche la parte davanti infatti per la parte davanti vado sempre a prendere la coppia di fili che si trova sulla destra e faccio gli stessi avvolgimenti che avevo fatto prima le tre decorazioni e ugualmente li blocco sulla struttura dal lato opposto stavolta però andrò a tagliare l'estremità dei fili dopo aver inserito la navette avete visto che la struttura si era deformata abbastanza mentre facevo trazione e quello dipende dalla morbidezza del filo questo è uno dei motivi per cui come vi avevo detto avrei preferito lavorare con un filo un po più rigido comunque poi vado sempre a prendere il terzo filo da 08 lo fisso sulla struttura andando diagonalmente rispetto alla pietra in questo modo ho quasi stabilizzato la pietra ho portato quindi tutti quanti i fili da 08 nella parte alta del ciondolo vado quindi a dividere tre fili da 08 sui quali vado a fare una serie di avvolgimenti con uno dei fili fuoriuscenti da 04 una serie di avvolgimenti lunghi circa un centimetro e mezzo che mi serviranno per creare il cappio del ciondolo una volta completo piego il cappio con gli avvolgimenti tramite le pinze a punta conica e poi vado a bloccarlo utilizzando uno dei fili da 04 fuoriuscente il filo più corto da 04 lo faccio rientrare nella lavorazione e poi lo vado a tagliare più vicino possibili alla lavorazione con le tronchesi per fare in modo che poi non graffi quando si indossa il ciondolo e ogni volta che si fa un taglio bisogna poi spingere con le pinze la punta del filo che si è tagliata per quanto riguarda le parti fuoriuscenti di filo da 08 quelle che non sono state utilizzate per il cappio vado a modellarle in forma di spirali e le fisso sulla parte anteriore del ciondolo tramite l'ultimo pezzetto di filo da 04 che mi è rimasto per quanto riguarda le spirali per farle bene vi consiglio sempre di iniziare con le pinze a punta conica fare il primo avvolgimento quindi se vedete che l'estremità è un pochino dritta vi consiglio di tagliarla con le tronchesi e poi di continuare a fare gli avvolgimenti con le pinze a punta piatta in questo modo otterrete delle belle spirali se invece non tagliate il primo pezzettino dritto della spirale ammettendo che non lo abbiate piegato benissimo con le pinze a punta conica rischiate poi di ritrovarvi delle spirali con dei bozzi un po triangolari quindi il taglio iniziale serve proprio ad avere un bel cerchietto all'inizio i fili del gancio li ho fissati sul retro il filo da 04 l'ho tagliato tra una spirale e l'altra così che non fosse pungente e questo è il ciondolo completo spero che il progetto vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche se ancora non lo avete fatto e venite a seguirmi su tik tok dove sono archidee e su instagram dove sono diana archidee così potrete vedere tutti i miei progetti in anteprima io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao